...fatto di rami intrecciati l'uno con l'altro. Questi si sviluppano a partire da grandi tronchi che si trattiscono, come fusti di colore, lo spazio architettonico. Grazie per la visione! Grazie per la visione! ...fatto di rami intrecciati l'uno con l'altro. Questi si sviluppano a partire da grandi tronchi che si trattiscono, come fusti di colore, lo spazio architettonico.